Alle donne e agli uomini dell'arma dei carabinieri che ogni giorno garantiscono la sicurezza dei cittadini con abnegazione, passione e dedizione, fungendo da collante tra la società civile e le istituzioni, attraverso i valori caratterizzanti della fedeltà, del coraggio, dell'onestà, dell'impegno civile e sociale. A loro oggi è stata consegnata la cittadinanza onoraria dal comune di Barletta durante una cerimonia organizzata in corso Vittorio Emanuele, davanti alla statua di Eraclio, simbolo per eccellenza della città, alla presenza del sottosegretario della difesa, la senatrice Isabella Rauti e delle autorità civili e militari. È un riconoscimento tangibile ma anche molto simbolico per l'operato che l'arma svolge su questo territorio, mi permetto di dire, a livello nazionale in ogni angolo d'Italia. È un atto di affetto, anche di umanità e di condivisione, perché le istituzioni sentono la vicinanza dell'arma, che è la stessa identica vicinanza fisica e materiale che sentono tutti i cittadini, che non è solo una percezione della sicurezza, che già sarebbe comunque un sentimento positivo, ma è una realtà perché l'arma è ovunque, un baluardo e un presidio di legalità. Un momento importante per ringraziare gli uomini e le donne dell'arma dei carabinieri per il servizio che ogni giorno svolgono per la collettività. Era il 27 giugno quando il Consiglio Comunale approvò all'unanimità la delibera. È assolutamente un riconoscimento doveroso e particolarmente sentito da parte delle istituzioni comunali, ma io sono convinto anche dalla comunità cittadina. Un riconoscimento che suggella un legame storico, quello tra la cittadinanza barlettana e i carabinieri da sempre vicini ai bisogni di sicurezza della collettività. È un motivo di grande soddisfazione, di grande orgoglio, ma al tempo stesso anche di grande responsabilità. Il riconoscimento odierno, io dico, ci dà la forza, ci dà lo stimolo a cercare di fare sempre al meglio il nostro dovere, nell'interesse esclusivo della cittadinanza, nell'interesse esclusivo delle tante comunità che ci sono affidate. E la comunità di Barletta è una di quelle. È un riconoscimento che non riteniamo solo simbolico, ma che riesce a compenetrare la nostra divisa, un pezzo importante dello Stato, con la città di Barletta ancora di più di quello che è stato tutti i giorni. Quindi riteniamo che da oggi in poi potremo ancora andare più fieri del legame che abbiamo con questa bellissima città. Grazie. 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 Grazie.